L'Assemblea Legislativa ha aperto l'8 maggio la sua partecipazione al 27esimo Salone Internazionale del Libro, organizzando un incontro con le scuole su il bene e la cultura alimentare. Maria Luisa Alberico, presidente dell'Associazione Donna Sommelier e Guglielmo Gallino, scrittore e docente di storia e filosofia, hanno illustrato come i cambiamenti epocali della storia dell'umanità e delle sue civiltà, siano stati fortemente influenzati dal cibo, bene primario per gli uomini. Benessere per pochi e indigenza per due terzi dell'umanità, ha premesso Alberico, sviluppo sostenibile e rapina del territorio, conseguenze di uno sviluppo disordinato, ha affermato Gallino. Tra il pubblico, gli studenti dell'Istituto Alberghiero Giovanni Giolitti, che all'insegna della sobrietà e della sostenibilità, hanno poi servito il coffee break.